So che di questa iniziativa che appunto crea uno spazio, crea un punto di attività ulteriore, di rilevanza sociale, di aggregazione, un'amministrazione deve anche favorire queste realizzazioni che incidono poi sulla qualità della vita, sulla vivibilità dei territori. Sono quelle cose che sempre si invocano e che poi restano sulla carta, invece in questo caso c'è una realizzazione concreta, si passa dalla teoria alla pratica. Basilio Ferrari, come tanti altri militanti del centrodestra di Paola, legato ad un antico rapporto di impegno sul territorio, nella crescita di una comunità politica, merita la fiducia perché si è caricato sulle spalle una situazione difficile che ha ereditato dalle gestioni precedenti, ha dovuto affrontare con energia un risanamento finanziario del Comune e credo che la serietà, l'impegno, la costruttività vadano premiate, quindi questa rete di nuova generazione credo che possa rivitalizzare, rilanciare il centrodestra. La sinistra conquistò anni fa il governo della regione Calabria con un esponente di questa provincia particolarmente noto, non mi pare che ad anni di distanza le realizzazioni fatti premino quell'esperienza, quindi dobbiamo prepararci anche a un rinnovamento in sede regionale. Ci saranno poi anche le elezioni politiche nel mezzo perché male che vanno, si voterà entro il febbraio prossimo, quindi siamo già anche nella campagna politica. Salvatore Bruno per la Cineuso 24.